io resto a casa io resto a casa io resto a casa perché il brava noi stiamo a casa è tutto va bene ma andò chiede girenno stetevi né alle case vostre stati pagata bei fioi stumacca cassila come un virus che massa la gente state tutte a casa perché se con un virus piccolo sono quelle che c'è una carta possono andare gnarri sti fa baita mi sto aca te capi tacita la casa stavete in da casa poi stati a casa sin da me a rega dovete star bene a casa a casa dovete stando cazzo andate fuori mettetevi dentro quei quattro mura state buoni e godetevi sta pausa state via la casa teteva la casa poi vado a stanzorrati in da casa a per i te pesci a pensare a me santi cortesemente stava casa ma stacca voglio la vita star casa boss forse non c'hanno capito la vita sta tutti in serrati rendo casa compari ma che minchia fate ma state vinto a casa ma come manda non esce fuori che c'è corona virus state a casa piccoli così intattempo lecce menti orna o ora una virus si sente va dai non cominciate non mi facete incazzare voglio vado a sta casa c'è che cosa che faccio in me che non capite vado a sta casa fate una lasagna fate una pizza fatevi una mannata ma state via a casa state la casa voglio resti a ca parla fuso venite a sta ca nyorantone di nyorantone ho vado a sta casa voglio me asci del rint troppo 6 voglio state la casa a vita sta casa italiani a vedere stare alla casa vostra state va alla casa o la saga sa ostia state lio far venti steva a sacca la Voglio stare a casa, che è meglio, me, un abbraccio. Oh picciocco su, ti puoi fare bravo su, la parrai in domo e non sai che si ammazza, comprendi? Mi raccomando stare a casa, se no vieni a casa tua e ti prendi e ti prendi, capisciste? Da, 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 da! Voglio stare a casa, ma io, vado a stare a casa, tutti quanti, alle case vostre, ad stare. Allora, se te non puoi capire, a scuola no, sorti, ma devi stare a casa. Quello, ti raccomando, restate l'inda, ammite per l'anno, altrimenti finisci a scrivere. Più favori, giuncate intracasa, non vengono, più favori. E allora, sei proprio scemi, come vi la vi mai dire? Vado a testare, alicaci, voci, cunni. Cosa se devo fare, mones, di casa? Aiuto, fate a casa, ancora avete capito? Vate a casa. Giuncatevi a casa. A casa. Allora, ora devi farlo, stai a casa. Ma, rimane, è un po' di stagione, ma se volete stare a casa per vi dovete prendere i capelli. Vado, ma che vediamo se non c'è quella? Forse non avete capito che vado a stare a casa. E basta. Sono vietati gli assemblamenti, avete capito? No, no, non avete capito. E ora vi faccio capire. Vado a stare a casa vostra, avete capito, ma come spaccimmo me l'hanno a capito? E non si discute più. Noi di Radio Scream Italia, restiamo a casa. Fallo anche tu.